Obiettivo coprire la vaccinazione degli ultraottantenni entro l'11 aprile. Al momento è stata raggiunta la quota del 79 per cento tra chi ha già ricevuto il vaccino e quelli già prenotati. Il nostro obiettivo per l'11 aprile è vaccinare la popolazione anziana ultraottantenne e metterla in sicurezza. Priorità ad anziani e fragili, reclutamento in atto con diverse modalità. Queste ore stiamo chiamando a casa gli anziani che non sono ancora prenotati tramite CUP e li invitiamo e li inseriamo negli slot che sono attivati per le vaccinazioni nelle varie sedi. Domani e venerdì sarà la volta degli ultraottantenni del Lido così come già avvenuto a Burano e Pellestrina. Sono state previste circa 500 vaccinazioni, circa 600 vaccinazioni di ultraottantenni e lì con le nostre squadre andremo a vaccinare questa gente. Da domani si potrà accedere alla prenotazione online del portale regionale. Anche i farmacisti avranno un ruolo di supporto in questo. Da lunedì oltre all'apertura ad altre classi di età potranno accedere alla registrazione e alla prenotazione anche le categorie degli accompagnatori o caregiver. E la campagna vaccinale dell'Ulz3 serenissima che ad oggi tocca il picco delle 110.000 vaccinazioni tra prime e seconde dosi subirà una spinta ulteriore a partire da mercoledì prossimo con l'attivazione al palaacque ex pala expo di nuove linee vaccinali che consentiranno 3.000 vaccinazioni al giorno. E se il trend degli attualmente positivi nel territorio di competenza dell'Ulz3 è sotto la media regionale, la curva in lieve calo a preoccupare sono i ricoveri. Abbiamo circa 3.900 positivi in questo momento nell'Ulz3 serenissima. Possiamo dire che abbiamo un piccolo rallentamento dei contagi e questo si vedrà anche sui ricoveri che in questo momento sono in crescita ma seguiranno l'andamento dei positivi.